Il Castelfranco per 3 a 0. Inizio sprint delle ospiti, catena spinge in attacco e prova la fuga in due tempi, ma i locali riescono sempre a rientrare e rimanere attaccate sul 12 a 13. Prese le misure a muro, aumenta il divario, minati, castiga, ripetizione e propiziando l'1 a 0. Al cambio di campo il copione è pressoché identico, ancora una catena precisa in fase offensiva, prendere il pallino in mano, ma dalla parte opposta della rete Caverni si mette in evidenza e resta in scia. 11 a 13, l'equilibrio si rompe nuovamente con i muri che fanno ombra ed è il raddoppio. Quindi 2 a 0, nel terzo set va ancora tutto più liscio, Stincone cerca soluzioni vincenti con la premiata editta catena minati, che infligge punizioni durissime determinando il divario. 7 a 13, le locali non riescono a reggere il passo e finiscono per sbagliare e terminare al tappeto. Quindi vittoria della TUM.